Ciao ragazzi, un grosso saluto da parte mia a Luca Di Leonardo e dallo staff di TuttoFantacalcio.it Nuovo capitolo di preparazione all'asta 2020-2021, oggi andrò ad analizzare i low cost 3 per reparto, quindi porta, difesa, centrocampo e attacco Vi invito anche a scriverci qua sotto nei commenti per sapere la vostra riguardo ai nomi che andrò a fare E magari se avete qualche altro nome da suggerimento, ne possiamo parlare tranquillamente qua sotto nei commenti Inizio in porta, con i portieri, sicuramente il primo nome è Sirigu Sirigu è un giocatore che può passare sotto traccia, lo scorso anno ha deluso assolutamente le aspettative Ha subito tanti gol, però in un'annata abbastanza storta è riuscito a totalizzare 7 clean sheet Secondo nome, Musso dell'Udinese, è il portiere che lo scorso anno ha realizzato più clean sheet Ben 14, l'Udinese gioca con lo stesso allenatore, con lo stesso modulo Quindi sicuramente un giocatore che può darvi delle soddisfazioni anche in ottica modificatore Ultimo nome low cost è Silvestri del Verona Nella prima parte della scorsa stagione è stato addirittura il portiere meno battuto Juric è stato confermato, la difesa del Verona è un po' cambiata, però ho delle buone idee riguardo a Silvestri Che se è pagato poco può darvi comunque delle soddisfazioni Capitolo difesa, primo nome low cost in difesa è Gagliolo del Parma Terzino sinistro titolare con Liverani può essere ancora più offensivo Per lui lo scorso anno 3 gol e 3 assist Secondo nome in difesa è Striegel Larsen dell'Udinese Gioca nella linea 5 dei centrocampisti È un giocatore che spinge, può regalare tanti assist E chissà che in ottica realizzativa non possa migliorare il suo score Ultimo nome in difesa è Zappa del Cagliari Nuovo acquisto proveniente dalla Serie B dal Pescara Per lui 5 gol e 1 assist la scorsa stagione Le squadre di Francesco tendono a far salire parecchio i terzini Quindi Zappa che è in ballottaggio con Faragò può essere un buon prospetto low cost Centrocampo, primo nome Diuricic del Sassuolo Non ho la certezza che in Serie d'Asta non possa salire Però qualora il valore di Diuricic non dovesse salire in Serie d'Asta Puntateci perché è titolare È un giocatore che De Zerbi tende a schiararlo titolare E a far sì che le sue caratteristiche vengano fuori Quindi Diuricic può essere un prospetto interessante Così come Zaccagni del Verona Sarà sicuramente più titolare rispetto alla scorsa stagione Gli si chiede di essere un po' più offensivo Un po' più forte in ottica realizzativa Può essere un buon prospetto Così come Soriano del Bologna È una certezza nel Bologna di Mijelovic Il trequartista può regalare gol e assist Se non lo strappagate in Serie d'Asta Chiaramente potete prenderlo Come attaccanti il primo nome Simi è sicuramente un giocatore che può far bene È rigorista Lo scorso anno ha fatto benissimo in Serie B È assolutamente titolare Quindi può essere un buon prospetto Anche questo occhio a quanto lo pagate Non superate il 6-7% rispetto al vostro budget Gabbiadini può essere un altro nome Low cost Può passare sotto traccia in Serie d'Asta È titolare Lo scorso anno comunque è arrivato a 11 reti Quindi è un giocatore che può far bene anche quest'anno Ultimo nome Low cost In attacco è di Carmine del Verona Sarà un po' più titolare rispetto alla scorsa stagione Ci si augura che sia anche un po' più costante nel rendimento È rigorista È un giocatore che può far bene Lo scorso anno fece 8 gol Quest'anno vorrà sicuramente superare la doppia cifra Ecco quindi ragazzi una breve analisi Dei giocatori low cost 3 per ruolo Vi invito a scriverci qua sotto nei commenti Per sapere anche la vostra idea Se avete qualche altro low cost da suggerire E vi invito anche a iscrivervi al nostro canale Tutto Fantacalcio Cliccando sulla campanellina Per essere sempre informati sui video che andremo a fare Se vi è piaciuto questo video Vi invito anche a mettere un like E inoltre anche l'invito A seguire il nostro portale TuttoFantacalcio.it Sono uscite le fantaguide Divise in quattro parti Sarà l'analisi di tutte e venti le squadre In ottica Fantacalcio Dategli uno sguardo insomma Ok Un grosso saluto da parte mia Luca Di Nardo E vi invito al prossimo video Ciao ciao